Allora, vediamo un po' la lista delle abitudini di successo. Oggi vado a fare una breve carrellata di quelle che sono le key habits. Che cosa sono le key habits? Sono quelle abitudini semplicissime che se tu inizi ad adottarle andranno a modificare la tua vita in tutte quante le aree. Sono quelle abitudini più importanti che qualsiasi persona che tu voglia avere successo, che tu voglia iniziare a guidare una macchina più bella, che tu voglia diventare il più bravo fantino del mondo. Qualsiasi cosa... Perdonate. Qualsiasi cosa ha queste abitudini e adottranno a migliorare la tua vita in toto. Toto è per toto. Va bene? Prima di iniziare e di porti a questa breve carrellata, ricorda di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. E diamine. Non ci credo. Non l'hai ancora fatto. Ma dai. Ma che mi dici? Vabbè, facciamo così. Per questa volta ti perdono, però me lo devi fare. Se no, cioè, la prossima volta non ti perdono. Allora, iniziamo a fare questa breve carrellata di quelle che sono le abitudini principali e ti voglio spiegare anche per quali motivi ovviamente sono importanti. La prima abitudine è la meditazione. Meditation. Ok? Non so come meditano così, comunque. La meditazione è fondamentale per tutti quanti noi. Perché è fondamentale? La meditazione è lo strumento attraverso il quale puoi allenare la tua mente. Nel ventunesimo secolo, in cui ci troviamo adesso, quindi buona scoperta, in questo ventunesimo secolo abbiamo, la maggior parte delle attività che facciamo pongono molto peso sulla nostra mente. La nostra mente è spesso soggetta a sforzi. Di conseguenza è importante avere una mente rilassata, una mente sana. Fidati, è una cosa che ti invita la vita in ogni cacchio. La mente è ciò attraverso il quale fai tutto. Quindi, ciò che ti consiglio di fare inizia a meditare. Ho fatto vari video sulla meditazione, su un video si chiama 3 metodi per meditare, oppure cerca meditazione mindfulness, o mantra, oppure meditazione guidate. Su YouTube ne trovi tantissime. Va bene? È una prima abitudine fatta. La seconda abitudine, perdonami se mi abbassano, ma come al solito chi mi conosce sa che qui sotto ho il mio iPad in cui ho tutti i miei appunti. La seconda abitudine è l'allenamento. L'allenamento è per il corpo ciò che per la mente è la meditazione. L'allenamento è utile non solo perché ti fa sentire più figo, che sei più muscoloso, sei più tonica, eccetera, ma l'allenamento è utile perché rilascia il nostro cervello endorfine e ti fa sentire più energico e più felice. Se ti alleni hai più forza e più energia per poter fare qualsiasi cosa, hai più vitalità, più voglia di divertirti. Allenati e farlo bene. Non serve allenarti come quei passi 3 ore al giorno, ok? È importante, va bene, anche io per esempio attualmente mi alleno 30 minuti al giorno, faccio dei micro allenamenti. Oppure puoi allenarti anche un'ora ogni 2-3 volte a settimana. L'importante è che lo fai, va bene? Poi, altra att... Ok ragazzi, questa che ti sto facendo adesso è roba forte. Sembra uno di quelli di uno spacciatore. Amico, è roba forte questa. Oh, sei così quello che ti dico io? È roba serio. Comunque, eh... Questa si chiama abitudine del feedback loop. Cos'è la feedback loop? Abitudine del feedback loop? Cos'è l'abitudine del feedback loop? È quella abitudine attraverso il quale tu osservi costantemente i tuoi risultati e migliori. Elon Musk, conoscete Elon Musk? Sì, dai, l'uomo più ricco del mondo, almeno nel momento in cui esce questo video. Allora, lui diceva che il suo più grande segreto, e il motivo per il quale è arrivato a questo successo, è derivante proprio dal feedback loop. Perché? Il feedback loop consiste in tre fasi. Azione, osservazione dei risultati, e poi pianificazione, per poi reagire meglio. In questo modo, se tu osservi sempre i tuoi risultati, e di volta in volta migliori, fai miglioramenti su miglioramenti, e migliori in modo esponenziale. Il feedback loop non lo devi applicare solamente al lavoro, ma a qualsiasi cosa. Che tu magari all'allenamento, applica il feedback loop. Ogni volta che ti alleni, alla fine all'allenamento, chiediti come posso allenarmi meglio. Con le relazioni, con i tuoi amici, esci con i tuoi amici, quando hai finito di uscire, ti orti a casa, pensi come posso divertirmi di più con i miei amici, come posso avere una relazione più bella con i miei amici. Sempre, questo ti migliorerà la vita in ogni aspetto. Poi, un'altra tecnica è quella di non pensare. Già, non devi pensare. Di alla tua mente di starci zitta. Se devi pensare, devi iniziare a riflettere sul serio. Allora, la nostra mente, io ho fatto un video che si chiama non pensare. Non pensare. Non pensare. Ti spiego quanto è importante non pensare. Che ti sto dicendo? La nostra mente, ogni giorno, ci manda oltre tipo 80.000 pensieri diversi. La maggior parte di questi pensieri non fanno altro che offuscarci la mente e toglierci e distrarci dal momento presente. Ciò che ti consiglio di fare è, se sei nel momento presente e stai facendo qualcosa, non pensare. sforzati di non pensare. Se invece, magari, stai pensando a qualcosa di importante, non lasciarlo nel tuo pensiero, ma mettilo su carta, scrivilo, anche al telefono. Perché se lo pensi semplicemente, se ne vola e ti scordi. A me mi capitava spessissimo, magari, stavo nel letto, perché io rifletto spesso nel letto, e dicevo, ah cavolo, devo fare quella cosa, va bene dai, me ne ricorderò. Non mi ricordavo mai. Mentre invece, se la scrivi, anche se non ti vai a rileggere quel messaggio, fidati che te la ricordi. Perché da, real, da, da mentale, lo fai diventare reale, lo mettendolo su carta. Quindi, se devi riflettere, allora metti sempre tutto su carta. Altro consiglio, il sonno. Dormi bene. Dormi bene, mio bambino, che stanotte c'è un casino. Non lo so, però possiamo farci una canzoncina. Ci penserò, devo pensare a farmi farci una canzoncina, dunque sto così. Comunque, dormire bene è fondamentale, perché il sonno, è il migliore amico, della tua mente. Ti ricordi il punto uno? Il punto uno. Non te lo ricordi. La meditazione. Allora, la nostra mente è molto bombardata da informazioni. Per avere una mente salutare, il sonno è necessario, perché permette di far riposare la mente, e ricaricare tutte le energie. Dormire male significa che ti sentirai, avrai molte meno energie, riuscirai, prenderai peggiori decisioni, quindi farai le scelte sbagliate, e non farai ciò che vuoi realmente fare. Sei molto più vulnerabile alle emozioni negative, quindi puoi essere anche molto più triste. Le cose che ti possono rendere sono orribili, e sono tante. quindi ciò che ti consiglio è, dormi otto ore al giorno, non per forza otto, c'è tutta questa cosa che devi dormire per forza otto ore al giorno. Ogni persona è diversa, però non devi dormire mai più di nove ore al giorno, e mai meno di sei ore al giorno. Va bene? Top! Mi hai ascoltato? Mi hai ascoltato? Ok. Poi, un'altra cosa è studiare, 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 studiare. Se sei uno di quei persone che fai, no, no, studiare, che fastidio, magari ho appena finito la scuola, ma studiare proprio no? Ragazzi, vi prego, non associate la conoscenza, studiare, con la scuola, perché sono due cose completamente diverse. Ok? Sono due cose che non vanno assolutamente insieme. La conoscenza deve essere libera perché lo studio, la conoscenza, deve nascere da una curiosità. E nessuno può importi di essere curioso di un determinato argomento. Quindi, ciò che devi fare, studiare, significa ascoltare la tua curiosità più profonda. cos'è che ti interessa in questo periodo? Può essere qualsiasi cosa. Ti interessa il calcio? Approfondisci il calcio, approfondisci gli schemi, le tattiche. Ti interessa la fisica? Approfondisci la fisica per conto tuo. Non devi per forza laurearti in fisica, anche leggerti un libretto, leggere, guardarti i video su YouTube di fisica, o cose del genere. Però sfoga la tua curiosità, studia, impara. Questa cosa permetterà sia di avere una mente più allenata, quindi una mente più elastica, ma inoltre di permettere di creare, di raggiungere grandissimi obiettivi. E da questo, dalla tua curiosità, nascerà la tua vera passione, il tuo desiderio e il tuo scopo nella vita. Dalla tua curiosità, se non sei curioso, se non studi mai, non potrai mai capire qual è il tuo scopo nella vita. Breve, ti faccio un breve, breve parentesi, che l'errore che fanno la maggior parte delle persone, quando si iscrivono all'università, è quello di, magari fanno il liceo, tipo fare uno scientifico, e subito lo scopo devono fare medicina. Senza aver mai letto un libro di medicina, o aver mai studiato medicina, si buttano così, a studiare per otto anni interi, una materia che non hanno mai studiato in vita loro. Ti rendi conto, di che salto nel vuoto che è, prima di iscriverti a una facoltà, devi essere sicuro al 100% che la facoltà ti piaccia, perché devi studiarla per un lunghissimo periodo. Quindi, cerca di, se vuoi iscriverti a una facoltà, allora, assicurati che studi la stessa materia, che ti piaccia così tanto, da averla già studiata per conto tuo. Quindi magari hai studiato quella materia per un anno, due anni, già per conto tuo. Perché, altrimenti è veramente un salto nel vuoto, e studierai, e ti sforzerai inutilmente, a fare ciò che non ti piace. Ok. Poi, un'altra cosa, altra abitudine importante, la gratitudine. La gratitudine, ne ho parlato già su un video, per esempio, la gratitudine e la rivoluzione del 2021. Sì, siamo nel 2021, almeno per quando sto facendo questo video. Se lo guardi nel 2022, cavolo, tu sei nel futuro, bello. Comunque, la gratitudine è molto importante, perché è lo strumento, che la scienza ti dà, per essere più felice. La gratitudine rilascia endorfine, che ti vanno provare gioia. Più sei grato, più proverai gioia, e più sarai felice nella tua vita. Quindi ogni giorno, scrivi 10 cose per le quali sei grato. Andiamo avanti. Condividi le idee. Noi esseri umani, non siamo animali solitari. Noi siamo animali sociali. Comunichiamo, dialoghiamo, e nel momento in cui comunichi idee con qualcuno, allora si espande la tua mente, si espandono i tuoi punti di vista, e soprattutto, si espandono quando ascolti. Ma quando comunichi, hai la possibilità di rielaborare le idee, e vedere le tue stesse idee, da un punto di vista diverso. Perché magari inizi a comunicarle, a utilizzare parole, che se sei da solo, non avresti mai utilizzate. È importante. C'è una tecnica, si chiama la tecnica di fame, è una tecnica attraverso il Feynman, era un grande scienziato, e diceva, è la migliore tecnica per memorizzare qualcosa, è comunicarla a qualcuno, insegnare a qualcuno. Questo perché, quando insegni a qualcosa, a qualcuno, cerchi di sforzarti, di rendere quegli argomenti semplici, per anziché tenerli nella tua mente, complessi, tutti articolati. Quindi, se tu comunica cosa a qualcuno, sforzando di renderlo semplice, ti sforzi anche di organizzare meglio le tue idee, e scremare ciò che è inutile. Quindi, comunicando a qualcuno, butti ciò che non ti serve, e tieni solo ciò che è importante. Ok? Poi, un'altra abitudine importante, è quella di imparare a conoscere le persone negative, ed evitarle. Allora ragazzi, la negatività, penso che se siete nella crescita personale, avete sicuramente sentito parlare dei vampiri delle emozioni. Che parola cattiva. Vampiri delle emozioni, sono quelle persone negative, che ti influenzano negativamente, a fare ciò che non vuoi fare. non per forza le persone negative, sono quelle che sono sempre così. Una faccia più brutta. Non riesco a fare una faccia triste. Comunque, non sono sempre quelle persone tristi, e che ti comunicano di cose brutte, ma sono anche quelle persone, che ti offuscano la vista, dal tuo desiderio. Magari se tu sei una persona che ama la palestra, e incontri, magari che ama il bodybuilding, e vuoi raggiungere i grandi obiettini del bodybuilding, ma incontri un'altra persona che ama il crossfit, e ti convince che ti attacca, che il crossfit è meglio, che il crossfit eccetera, ti porterà a... Quella persona, involontariamente, ti farà abbandonare il tuo desiderio, per andare verso il crossfit. Ok? Per questo, evita tutte quante quelle persone, che cercano di influenzarti, a non raggiungere il tuo obiettivo, che ti ostacolano, in qualsiasi modo, e soprattutto, quelle negative, che ti fanno abbassare il morale, tantissimo, perché quelle sono le peggiori. Ultima, ma non per importanza, anche la più importante, perché mi piace sempre mettere le cose più importanti alla fine, per mettere un bel punto, a questo video, possiamo dire, che è, porsi delle domande. Porsi delle domande. Perché? Perché bisognerebbe porsi delle domande? Bella domanda. Allora, già te l'ho detto nella parte dello studiare. Tutto ciò, noi esseri umani, per almeno in questo secolo, l'abilità più importante che abbiamo, deriva dalla conoscenza, e da ciò che sta all'interno della tua mente. La curiosità, è quello strumento, il porti domande, le domande, sono lo strumento, che ti permette di spronare te stesso, a studiare, a avere curiosità, a imparare qualcosa dal mondo. Ok? Per questo voglio spronarti a porti delle domande, perché le domande ci aiutano a essere curioso, la curiosità ti aiuta a studiare, studiare ti aiuta a creare una passione, una passione ti aiuta a vivere una vita più bella. Ok? Quindi, punti domande. Se non sai come porti domande, ti racconto brevemente un giochettino che ho inventato, però cavolo così sto facendo un video troppo lungo, un giochettino che ho inventato, che sembra il gioco delle domande. Poni una domanda, e rispondi a quella domanda, con un'altra domanda, e poi fai un'altra domanda, e un'altra domanda ancora. Tutte le domande successive, devono essere collegate a almeno una domanda precedente. Mi spiego, puoi partire ad esempio, cos'è un cavallo? Perché devo chiedermi cos'è un cavallo? Quanti anni hanno i cavalli? Come faccio a capire l'età dei cavalli? Cos'è che distingui l'età di una persona? L'età in generale, perché parliamo di età, cos'è che distingui l'età di una persona? Quando è che una persona è vecchia, o è giovane? Ma non parliamo solo a livello di età, parliamo anche a livello di comportamento. Cos'è che distingui il comportamento di un vecchio, di un giovane, e così via. Poni domande, 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 e fidati che rivoluzionerai completamente la tua vita. Un'ultima cosa ti voglio dire, iscriviti al canale. Boom, boom, te l'ho detta, te l'ho detta, questa è la biduna più importante, la biduna più importante è quella di guardare tutti i miei video, sempre, tutti quelli, stai indietro, guardali tutti. Questa è la biduna più importante, iscriviti al mio canale, e ogni volta che escono, pam, attiva la campanella, così almeno stai in riga, perché se poi non segui i miei video, rimani indietro, so cavoli, ti vengo a prendere, ok? Iscriviti al mio canale, metti un commentino qui sotto, per farmi sapere quanto sono pazzo, e, 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 ah sì, guarda qualche altro mio video, così non rimani indietro, e noi ci vediamo al prossimo video che c'erai, fammi sapere qual è il video che clicchi, infatti, al prossimo video che clicchi, di, io francese sono, sono ritornato, grazie a tutti,